Questo è un messaggio per tutte le vittime del controllo mentale nazionale. Se non andate a fare le denunce e dettagliate che siete delle cave umane, dei testimoni, degli esperimenti militari che vi stanno facendo in testa, farete la fine di una ragazza che si è suicidata qualche giorno fa a causa di queste torture e manipolazioni mentali, effettuate con le alte tecnologie e con i satelli di spia. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Dovete andare in procura a portare le denunce, le dovete fare tecniche plausibili, dovete denunciare che siete delle cave umane sottoposte ad esperimenti militari con satelliti spia in orbita bassa e che venite sottoposti a sollecitazioni e a manipolazioni fisiche e psicologiche attraverso attacchi con arma di energia diretta e che tutto questo serve per farvi suicidare. Così eliminerebbero un testimone chiave di questi esperimenti e i servizi segreti delle SS e dei viati che operano per la sperimentazione con l'auto delle alte tecnologie e delle armi ad energie dirette che vengono coperti da false indagini antimafia, antidroga, antiterrorismo e che vengono simulate su noi cave umane queste indagini per coprire gli esperimenti militari che ci stanno facendo addosso. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Ricordatevi che i servizi segreti prendono 8.000 euro di stipendi al mese perché sono ufficiali medici e 30.000 euro di mazzetta in nero che gli viene data tutti i mesi. Gli danno un pizzino e questo fogliettino, c'è un codice, loro si devono presentare in determinati posti che gli impartiscono attraverso la telepatia artificiale o attraverso il sistema Tetra. danno questo foglio e gli danno la busta con 30.000 dentro, dalle 10.000 alle 50.000 ma loro prendono 30.000 euro, me l'hanno detto in telepatia artificiale.